Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova live, la prima di una serie di video nei quali vedremo come sviluppare un'applicazione Laravel. Come al solito l'invito è quello di farci sapere se le iniziative vi piacciono, commentando, mettendo like, seguendoci sui nostri social o entrando nel nostro server Discord. Quest'ultimo, server Discord, che trovate anche nei commenti, verrà usato per discutere delle funzionalità e delle tecnologie che dovremo integrare nel prodotto che stiamo andando a realizzare. E quindi in questo video iniziale pensavo di iniziare appunto lo sviluppo di una sottospecie di forum per la gestione o dei commenti in stile Disqus, oppure per ad esempio la democrazia liquida. Quindi diciamo che non ho una idea ben precisa di cosa andare a fare, quindi oggi partiremo dalla definizione dei thread. L'obiettivo è quindi di utilizzare questo prodotto all'interno della community, noi abbiamo queste due necessità. Vediamo cosa decide la community di andare a sviluppare. Oggi vedremo molto velocemente il funzionamento del DB layer, di tutto il framework, diciamo, per la creazione di una REST API, di un piccolo endpoint. E quindi sta a voi poi farci sapere come volete far evolvere il progetto. Spero anche di poter coinvolgere qualche guru di Laravel per avere un pochino di ospitate e magari qualche ragazzo all'interno della community. Quindi sarà qualcosa che crescerà col tempo. E inizieremo da un livello molto base e poi cercheremo di far evolvere il tutto. Quindi se siete qui perché volete partecipare al progetto, perché volete conoscere il framework o perché, non lo so, siete solo curiosi, siete nel posto giusto. I prossimi video, quando necessario, diciamo, saranno strutturati in una parte di backstage iniziale, magari, nella quale andremo a fare un riepilogo di tutte le modifiche che ci sono state al progetto. Quindi nel tempo che è trascorso da una live all'altra. Perché? Perché questo progetto sarà ospitato su GitHub. Quindi potrete andare a modificarlo. Quindi magari ci sarà una sezione, una piccola parte delle prossime live dedicate al backstage, nella quale andare ad analizzare magari le vostre pull requests o le proposte relative alle nuove feature da integrare nell'applicazione. E ovviamente poi ci sarà potenzialmente una parte di live coding. Potrebbero inoltre eseguire fra una live e l'altra dei video, diciamo, delle piccole pillole su argomenti specifici che vadano a trattare una specifica tecnologia o una specifica funzionalità del framework, al fine di mantenere tutti gli spettatori più o meno al passo nel processo di sviluppo. Ma al tempo stesso, togliendo questi contenuti, diciamo, dalle live, cerchiamo magari di rendere le live meno noiose per chi già conosce il framework. Ironia della sorte, la live di oggi sarà un pochino noiosa probabilmente. Quindi, come l'ho già detto più volte, per la buona riuscita della serie abbiamo bisogno del vostro feedback. Mi sono appena accorto di avere un bel gattone di background qui. Mettiamo una console. Anzi, ecco. Quindi per la buona riuscita abbiamo bisogno del vostro feedback. Fateci sapere come stanno andando le live e se dobbiamo correggere il tiro. Domandone numero uno, visto che dobbiamo lavorare in modo interattivo, come vorreste chiamare questo progetto? Tirate fuori qualche nome interessante, qualche nome carino, perché se devo inventare io un nome, stiamo qui fino al domani, perché la mia creatività in termini di nomi è abbastanza limitata. Allora, fateci anche sapere se siete alle prime armi con il framework. Facciamo un attimo. Ok, è entrato Dario. Ciao Dario. Ragazzi, ciao a tutti. Non vi saluto tutti, facciamo un saluto intero. Quindi, fatemi sapere se avete un'esperienza col framework o se partite da zero magari. Ora, abbiamo detto che l'obiettivo è quello di creare un piccolo endpoint. Faremo un endpoint per la gestione dei thread. I thread saranno, diciamo, il filone di discussione, rappresenta il filone di discussione all'interno di questa piattaforma, che sarà o, ad esempio, un articolo, il thread, sotto il quale ci sono dei commenti, oppure una proposta all'interno della community, nel caso della democrazia liquida, che contiene a sua volta sempre dei commenti, ma che può essere votata e eventualmente approvata. Quindi c'è un piccolo workflow di approvazione. Queste sono ovviamente le mie idee iniziali. Potrebbe diventare qualsiasi cosa. Possiamo anche buttare il codice fatto oggi e rifare tutto da capo nelle prossime live. Quindi, prime armi. Perfetto, c'è chi ha già lavorato su CRM. Ottimo, ragazzi. Allora, qui in share screen ho un articolino del nostro buon Dario Frongillo che spiega un attimino la grande linea e cos'è un endpoint rest e quali sono le best practice per creare un endpoint rest. Noi abbiamo bisogno di sapere solamente che realizzeremo un endpoint per i thread. Quindi avrà uno URL con il nome dei thread al plurale, threads. Accetterà richieste get per il prelevo della lista dei thread richieste get per il prelevo di un singolo thread poi successivamente richieste post per salvare e inserire quindi un thread put o patch per aggiornare il contenuto di un thread e delete per eliminarlo. Prime armi, prime armi. Va bene. Magari, ragazzi, vi spiego anche come installare lo stesso framework. Dopo è scontato che abbiate almeno un interprete PHP installato sulla macchina. Andiamo in share screen. Come si fa a installare il framework? Beh, banalmente andiamo sul sito getcomposer.org download. E con queste piccole linee di codice possiamo scaricare il gestore dei pacchetti di Laravel composer che può essere lanciato tramite PHP o in questo caso siccome i permessi di esecuzione può essere lanciato direttamente. questo lo potete installare in un pack di sistema o lo potete invocare di volta in volta. E il metodo per installare Laravel non ce ne sono solo non c'è solo un metodo ma il mio preferito è quello di usare appunto composer e creare il progetto in questo modo lanciando composer.par create project il progetto in questione fa riferimento al repository Laravel e poi specificate il nome dell'applicazione in questo caso lui scaricherà tutte le dipendenze e creerà uno start project io ho già lanciato questo comando in precedenza interrompo perfetto il mio progetto in questione si chiama amazing name ovviamente siccome non ho nessuna nessuna creatività per i nomi perfetto vediamo un attimino com'è la struttura del progetto questo è il classico progetto Laravel vi fornisco una descrizione sommaria delle principali directory del progetto abbiamo l'app folder che contiene il nostro codice applicativo la config folder che contiene i nostri file di configurazione la vedremo subito il database contiene le nostre migration i seeder i faker public contiene la nostra web root resource contiene i nostri file di risorsa come ad esempio gli asset piuttosto che le viste routes ovviamente contiene le route applicative storage sono tutti i file che cambiano all'interno del framework test test case feature test vendor le dipendenze dell'applicazione sono andato veloce non vi preoccupate perché tanto ci ritorneremo cosa fare prima di iniziare chiaramente siccome questo progetto andrà su github inizializzo un repository vuoto quindi inizializzo il repository e poi vado ad inserire in gitignore scusatemi vado ad inserire in gitignore il la directory punto idea che è la directory che viene creata da phpstorm il mio idea per evitare di pusharla sul repository d'accordo quindi aggiungo tutti i file al progetto come potete notare mancano i file punto idea con molta fantasia commit iniziale e abbiamo inizializzato il nostro progetto torniamo qui vi avevo detto questi sono i nostri file di configurazione ad un occhio più più esperto per qualcuno che non ha avuto ancora che fare con questo framework potrebbe quindi qualcuno che non ha avuto che fare con questo framework potrebbe avere potrebbe pensare che la configurazione del software di un software scritto in Laravel sia hardcoded perché sono tanti file php che abbiamo buttato sul nostro repository ora nulla di più sbagliato perché se da un lato è vero che questi file di configurazione vengono pushati nel repository dall'altro i valori che variano a seconda dell'ambiente o delle configurazioni che devono variare vengono inseriti in uno specifico file .env nella forma chiave valore come vi dicevo io utilizzerò il web server built in che lancia l'applicazione serve l'applicazione sulla porta 8000 quindi nel mio file di environment vado a specificare che l'app url è la porta 8000 l'app name sarà amazing name per questo momento dai e successivamente specifico la db connection quindi database i valori i parametri del database per la connessione bene facciamo subito una una migration per una migrate per bom errore allora con il comando migrate io vado a generare il mio database perché in questo momento ho un errore beh banalmente la chiave specificata in una tabella è troppo lunga perché perché io lavoro con maria db quindi che cosa bisogna fare andiamo nel file di configurazione database e cloniamo la db connection mysql che è praticamente identica a quella di maria db e la chiamiamo maria db niente paura questa è una cosa che faremo una volta poi non la faremo più cosa dobbiamo cambiare per fare in modo che il tutto funzioni beh dobbiamo cambiare il char set e la collection del database basta nel file di env vado a specificare che la connection non è più mysql ma è maria db e in linea del tutto teorica ora dovrebbe migrare il mio database perfetto quindi all'interno del database ora ho creato queste tabelle ho la tabella dei job delle migration del password set degli user bene non ve le spiego perché le vedremo nel dettaglio nelle prossime live ma ora dovrei procedere alla creazione di una tabella che è quella dei thread per fare in modo che le mie informazioni siano memorizzate da qualche parte come lo faccio bene non so se avete notato nel comando precedente io ho invocato artisan che è un attimo la possiamo dire la cli barra lo scaffolder di Laravel artisan mi dà una lista di comandi che mi permettono sia di creare del codice all'interno dell'applicazione quindi di generare codice sia poi effettivamente di lanciare ad esempio dei job piuttosto che lo scheduler quindi mi permette anche di definire dei comandi che possono essere invocati tramite artisan creiamo quindi la migration come la chiamiamo create create threads table e andiamo a vedere cosa effettivamente fa questo comando e dove memorizza questi dati innanzitutto però forse converrebbe fare un piccolo commit di quel che abbiamo modificato va bene andiamo nella directory database andiamo nell'emigration è stato creato è stato creato un nuovo file che contiene del codice applicativo contiene una classe di tipo migration che stende migration che dispone di due metodi un metodo up e un metodo down bene il database in Laravel tramite il meccanismo delle migration è versionato quindi è possibile con ogni migrazione far crescere e modificare il db schema nella function up andremo nella nel metodo up andremo a aggiungere o modificare il db schema nel metodo down invece andremo a rimuovere le modifiche effettuate con il metodo up quindi in questo caso io voglio creare una tabella quindi schema create table name threads e assegnare e inserire in questa tabella un titolo e un body di tipo testo quindi andremo a creare una tabella che contiene una colonna di tipo string di nome title e una colonna di tipo text di nome body andiamo a vedere che succede lancio la migration è stata eseguita con successo all'interno del database conterrò la mia tabella threads che contiene per appunto un id auto increment che viene definito da questa linea di codice la colonna title la colonna body e due colonne created that and updated that che vengono create da questa linea di codice cosa sono? sono due campi tipo testo che mi permettono di memorizzare all'interno del db in modo del tutto automatico quando il model è stato creato e quando il model è stato modificato l'ultima volta come vi dicevo le migration mi permettono di far evolvere il db schema quindi se nel metodo app ho creato una tabella nel metodo down devo eliminare questa tabella e quindi mi permette artisan di rollbackare le modifiche appena fatte al database facendo invocando il comando migrate rollback faccio un refresh del db la mia tabella threads è sparita bene e quindi ora che cosa facciamo allora vedo già qualche commento mi fermo al volo allora ma livewire lo vedremo nelle prossime live il video di diretta sarà poi disponibile sì certamente è su youtube rimane su youtube rimane su facebook lo potete vedere in qualsiasi momento perché non utilizziamo sale sì certo la ravel sale per creare un ambiente docker lo vedremo nei prossimi video sinceramente io sono sulla mia macchina diciamo di ufficio e ho già tutti gli ambienti predisposti e preferisco risparmiare quel minimo di ram però sì effettivamente hai perfettamente ragione mi sembrava anche un attimo più educativo diciamo mostrare entrambi i metodi quindi oggi magari andiamo con questo metodo un pochino vetusto e la prossima volta vedremo sale si può aumentare il font e l'ide ragazzi scusatemi certo che si può bene quindi abbiamo creato la nostra tabella come facciamo a inserire i dati all'interno di questa tabella ci serve un model il model cos'è il model di Laravel viene gestito da un componente che prende il nome di Eloquent non è altro che utilizza il design pattern active record non è altro che il singolo model un'astrazione della mia riga del mio record su db vediamo di crearlo lo creiamo sempre utilizzando actisan make model e questo model si chiamerà in singolare thread bene dove viene memorizzato thread viene memorizzato sotto l'app folder sotto la folder models qui come potete vedere c'è già uno user model ci sono già un pochino di cose io in questa fase le ignorerò poi tanto ci ritorneremo quando parleremo di autenticazione il model thread così realizzato mi permette già di accedere al mio db quindi memorizzare le dati all'interno del db per fare una prova al volo lancerò la thinker console quindi vado a creare un nuovo thread si vede bene la console spero di sì allora istanzia un nuovo thread e a questo nuovo thread allora l'active record pattern funziona così ogni istanza rappresenta una riga del database e quindi ogni attributo del model rappresenta una colonna del record quindi title uguale e body come faccio a memorizzare effettivamente questo record beh invocando il metodo save funzionerà andiamo a vedere bene mio titolo contenuto come avete visto senza far nessuna modifica a queste a queste due colonne e lo quanto si è già preoccupato di di popolare il dato posso analogamente modificare il record e in questo caso il timestamp di updated death è cambiato vedete e posso anche prelevare il record appena creato invocando direttamente il metodo find e passando l'id del thread cosa possiamo fare altro tantissime cose possiamo invocare il query builder quindi fare una vera e propria ricerca where title like qualcosa come si chiama questo titolo mio titolo get d'accordo oppure prelevare tutti i record in una in una sola istruzione e così via quindi abbiamo più o meno visto come funziona il il db layer ora se io volessi creare un pochino di dati in questo db layer e l'utilità di creare dei dati si rende cioè la creazione dei dati si rende utile quando si va ad esempio a fare del tdd o quando si vuole popolare i database con dati di test beh ci sono dei delle classi apposite che permettono di fare questa cosa tanto vediamo se c'è qualche commento sì sì allora è supportato l'inserimento massivo effettivamente ha ragione Mattia in questo caso quando io ho creato il model ho istanziato il model ho segnato la proprietà title ho segnato la proprietà body e ho salvato il model ecco se io ora avessi un array con questi dati vediamo se ho qualcosa già di pronto no title my title body my body allora se io avessi un array di questo tipo potrei ad esempio creare il model in modo massivo senza dover andare a settare le varie proprietà sì come si fa si va nel model thread esiste una proprietà che si chiama fillable che altro non è che è un array un array di campi dei nomi dei campi che possono essere assegnati massivamente quindi in questo caso title è body una volta fatto questo posso banalmente restanziare la mia thing car console faccio sempre un use thread posso creare thread in questo modo anzi in due modi in realtà posso istanziare il thread come abbiamo fatto prima invocare il metodo fill passando l'array d'accordo dopo di che salvarlo oppure banalmente fare un un'invocazione del metodo create passando l'array il metodo create mi ritorna un thread model il thread model appena creato d'accordo sì il timestamp viene salvato in utc si può modificare poi il timestamp globale dell'applicazione dal file di configurazione dal file di configurazione applicativo app vediamo se lo becco timezone bene quindi abbiamo visto come come creare questo model massivamente vediamo come creare dei dati di test creiamo un factory per la il model thread questo tra l'altro è una funzionalità nuova di Lara dell'8 prima si facevano in modo diverso quindi sotto database factories abbiamo la possibilità di andare a definire quelli che sono diciamo i valori di di test da associare ai ai vari alle varie proprietà quindi title per title vogliamo che ad esempio una sentence di cinque parole e per il body vogliamo un text come si usa questa classe factory beh allora non so se avete notato che su thread abbiamo un thread di nome has factory questo va e ci permette di arricchire diciamo il nostro il nostro model con un metodo che è che è il metodo factory e questo metodo ci permette di generare ad esempio che ne so tre model count oddio count free make in questo caso io ho solo creato i model se io volessi persisterli adb dovrei invocare il metodo create nei prossimi episodi e qui ho creato questi miei tre model nei prossimi episodi vedremo anche come fare in modo di creare dei model con dei model ad essi relazionati d'accordo quindi andremo ad approfondire poi questa tutta questa funzionalità di factory bene allora penso che più o meno si sia capito come funziona a grandi linee il db layer abbiamo un'altra funzionalità di db layer che però in questa fase non penso che sia utile che è quella dei seeder i seeder servono per aggiungere dati adb ma generalmente vengono utilizzati per creare quelle che sono i dati iniziali dell'applicazione che servono all'applicazione per funzionare se ad esempio sono presenti tabelle di configurazione solitamente si inseriscono dei seeder ora l'obiettivo di questa live era quella di creare un endpoint rest quindi dobbiamo spostarci sulla directory routes per andare a definire quelle sono le rotte applicative relative all'endpoint abbiamo due file per le rotte http il file api.php e web.php questi due file sono concettualmente diversi ma hanno anche un significato che dipende dai middleware che vengono estanziati magari se c'è tempo e se ne avete voglia possiamo affrontare il discorso dei middleware verso la fine a voi vi basti sapere che web conterà tutte le root di tipo web e api conterà tutte le routes di tipo api quindi le routes che servono per far funzionare gli endpoints come vi dicevo all'inizio un endpoints rest supporta alcuni metodi http e ha delle convention quali sono? se io volessi prelevare una lista di thread dovrei fare una get sull'url threads qui sto facendo una piccola semplificazione ma ci torniamo dopo se io volessi prelevare il singolo thread dovrei sì fare una get di threads ma mi servirebbe passare l'id analogamente se io volessi creare una nuova risorsa dovrei passare fare invocare una post su threads passando nel body della request il 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 json contenente i dati del threads che voglio andare a creare e così via per la put o patch facciamo finta che sia la stessa cosa passando questa volta però l'id della resource e delete che mi permette di eliminare la la risorsa bene come si fanno definire queste root banalmente get quando io andrò ad invocare l'url threads otterrò la lista dei threads come ok ritorno il model invocando il metodo all che mi restituisce come abbiamo visto prima il fonte piccolissimo non so perché globalmente non me lo fa va bene ora dovrebbe vedersi bene quindi ritorno alla lista di tutti i threads lo proviamo al volo abbiamo detto che l'applicazione allora prima di tutto dovrei lanciare il web server built in l'applicazione è in ascolto sulla porta 8000 c'è qualcosa che non quadra va bene sulla porta 8000 e uno quindi se io ora faccio una get di questo url ottengo un bel 404 scusatemi ottengo un bel 404 perché perché in realtà quando io vado ad operare sugli end point presenti in questo file in automatico viene aggiunto API al URL ah che belle le live thread not found allora non ho importato thread pensavo che l'avesse fatto in automatico va bene d'accordo quindi in questa route abbiamo ottenuto la lista dei thread bene ora visto che stiamo facendo una cosa interattiva chi mi sa dire quali sono i problemi presenti in questo in questo pezzettino di codice ce ne sono almeno due dai ragazzi commentate fatemi sapere perché questo modo di lavorare fa un pochino schifo dai niente nessuno vado io allora innanzitutto le API dovrebbero essere sempre versionate d'accordo perché perché se io dovessi cambiare il valore il valore il formato in cui ritorno ad esempio questi thread potrei rompere i client quindi prima di tutto dovrei dire che roots get threads v1 threads quindi la versione 1 di queste API mi restituisce questi risultati d'accordo quindi abbiamo spostato funziona tutto dopo abbiamo messo in un file delle roots che dovrebbe contenere solo le roots della logica applicativa questo è sbagliato cioè loro dovrebbero il file delle roots dovrebbe contenere solo le rotte applicative non dovrebbe contenere gli handler che ti permettono gli handler con il codice che permette di gestire quelle roots non solo l'Aravel ha tutto un meccanismo di caching dei file delle rotte dei file di configurazione e quindi è di vitale importanza evitare di inserire questi handler all'interno di questo file qual è il componente delegato alla gestione di questa logica qui beh sono i controller perché l'Aravel usa un frame scusatemi un design pattern che prende il nome di MVC bravo è arrivato tardi bisogna passare per i controller è arrivato tardi perché siamo un pochino fuori sync pensavo fosse un pochino meno fuori sync il video come facciamo a creare il controller php artisan controller ho fatto un errore perché dico una cosa poi ne faccio un'altra ho creato il controller qui thread controller però se l'api è versionata è importante che anche il controller lo sia d'accordo quindi controller dovrebbe restare sotto innanzitutto un API controller quindi inseriamo API version 1 thread controller perfetto in questo modo io ho inserito il controller sotto il namespace API version 1 se io dovessi può andare a riscrivere questo API quindi a inserire un altro thread controller andrò a creare un thread controller version 2 quindi sotto il namespace v2 bene facciamo ora il nostro metodo che dovrà gestire questa cosa qui lo chiamiamo index copiamo e incolliamo il codice magari lo copiamo e lo incolliamo anche bene importiamo la classe thread bene perfetto e qui beh qui dobbiamo dare riferimento all'Aravel che è questo handler viene gestito dal controller thread controller quindi passiamo a class name il thread controller e diciamo guarda devi andare a prenderti il metodo index funzionerà? beh sì stessa cosa bene ora vorrei facciamo così sì direi che è arrivato il momento di andare a presentare questi dati come faccio io ora a rimuovere questi valori o a riformattare l'output della request io potrei avere qui diversi dati che non ho intenzione di passare al client potrei voler organizzare il contenuto dell'output in un determinato modo come si fa? su qualcuno potrebbe dire facciamo un map d'accordo? quindi invoco un metodo map il metodo map ci passo una function anonima dell'item e per ogni item faccio un return di quello che voglio che effettivamente sia riprodotto in output test id non dilunghiamoci in questa roba beh questa cosa che ho appena fatto è un pochino aberrante 500 internal server ho sbagliato anche qualcosina e sinceramente in questo momento non sto riuscendo neanche a capire che cose che ho sbagliato ma non è così che si fa ma bensì utilizzando quelle che vengono chiamate eloquent happy resource che cosa sono? beh sono degli oggetti che ci permettono di renderizzare diciamo l'entity e mi permettono di spostare il layer di presentazione al di fuori del controller quindi sempre usando artisan andiamo a creare una resource in particolare creeremo version 1 ovviamente come dicevo prima thread resource che rappresenta la visualizzazione di un singolo thread e thread collection che invece dovrebbe gestire una collection di thread ora vediamo come funziona intanto vengono inseriti sotto la directory resource 1 e conteniamo thread collection thread resource bene qui andremo a riformattare la nostra entity bene la resource è in realtà un delegate quindi io posso accedere don't ask again io posso accedere ai valori contenuti dal model item id non lo so sto vedendo i commenti ragazzi non so che ho scritto dopo me lo riguardo magari quindi accedo all'id del model come se fosse all'interno della classe una proprietà della classe questo è un delegate pattern e body e quindi qui che cosa dobbiamo fare anziché ritornare direttamente il model andremo a ritornare una thread collection ovviamente avendo cura di stanziarla e passando nel costruttore i nostri threads bene mi ha effettivamente riformattato l'output abbiamo perso quei fastidiosi created that updated that va bene ma come ha fatto come ha fatto a invocare la thread resource passando dalla thread collection che è stata istanziata nel index method del thread controller beh semplicemente rispettando la naming convention Laravel va in automatico a prelevare la thread resource per ogni item presente nella thread collection semplice d'accordo step 2 dobbiamo fare un end point per il prelevo di un singolo item come si fa? beh aggiungiamo la nostra route e come funziona il prelevo di un singolo item? mi aspetto di ricevere show mi aspetto di ricevere un id nell'url e lo posso mappare in questo modo quindi tornato nel thread controller posso public function show id andrò a prelevare il mio thread con un find ovviamente e ritornerò questa volta non una collection ma ritornerò la singola resource quindi thread resource passando il thread quindi trovo il thread in questione e lo passo alla resource funzionerà? beh si spera prelevo il thread numero uno bene e se io volessi il numero 11 500 interno al server error tutto quello che deve essere gestito poi dall'endpoint oltre ha il metodo l'url sono anche i valori di ritorno cioè devono avere un senso se io ritorno un valore 500 il client capisce che c'è stato un errore interno del server e non capisce che quel record non è stato trovato quindi come la gestisco sta cosa? beh il problema qui da dove nasce? nasce dal fatto che il thread così ritornato è null perché all'id 11 non esiste nessun record nel db quindi dovrei andare a controllare se il thread effettivamente esiste e se dovesse non esistere abortire con un 404 funzionerà? sì no vediamo perché aborto 404 of none object e ovviamente ho sbagliato io posso o controllare che il thread sia o che non esista in questo modo cioè ragazzi perdonatemi c'è un modo più veloce per fare questa cosa? punto esclamativo grazie Antonio mannaggia peccato guarda che siamo un pochino indifferita altrimenti saresti di grandissimo aiuto in questa live magari la prossima volta tiriamo dentro qualcuno che legge i commenti e magari mi aiuta nello sviluppo così facciamo un pochino di per programming come dicevo c'è un modo per fare questa roba un pochino più velocemente sì find or fail mi permette di fare quello che ho appena fatto però in un'unica istruzione perché nel caso in cui quel modo non esistesse la request fallirebbe d'accordo ma ora ci stiamo scrivendo sto controller piano pianino ma non c'è un modo per scriverlo più velocemente? sì sì assolutamente generandolo con con eloquent ma prima di questo voglio introdurvi un'altra piccola funzionalità che è il model binding e si realizza in questo modo come faccio io a ottenere nel metodo show direttamente il model thread beh inserisco innanzitutto modifico il nome della proprietà modifico il nome del parametro e questo parametro è il tipo thread esiste un middleware che si occupa di fare questa cosa e non fa altro che restituirmi il model che ha con id l'id passato nella nella route e gestisce ovviamente il caso in cui questo model non sia stato trovato bene quindi va bene abbiamo visto come fare questa cosetta cerchiamo di generare ora il controller perché non è possibile che ci mettiamo a scrivere tutto il controller a mano eliminiamo questo file passiamo da artisan esiste un comando che mi permette di creare il controller che abbiamo fatto prima phpartisan make resource v1 thread controller ci passo però due parametri aggiuntivi api perché è un api controller e gli dico che il mio model si chiama thread make scusatemi ho tirato su il il comando sbagliato ero sicurissimo di aver beccato il comando giusto perfetto ho creato il controller quindi make controller e non make resource che non c'entra assolutamente niente va bene perdonatemi e qui abbiamo tutti i nostri model tutti i nostri i nostri metodi dove index è ovviamente il metodo che abbiamo visto prima che piglia tutti i thread e ritorna una thread collection php store mi sta dicendo attenzione perché il valore di ritorno è diverso da non è una ctp response infatti è una json resource in realtà questi sono tutti json resource cambiamoli tutti e togliamo la testa al toro potevo fare un find replace però va bene anche così quindi il mio metodo in questo caso mi ha modificato l'ordine dei metodi ho prima index poi store show update and destroy perché sono in ordine crude quindi lo show non faccio altro che fare un return del new address source passando add bene magari mi devo ricordare di ingrandire un pochino sì perfetto e qui devo andare a definirmi di volta in volta tutte le routes beh in realtà no perché possiamo definire in blocco che questa routes è collegata a un è un api quindi è collegata a un controller di tipo api ovviamente non abbiamo più bisogno di passare l'accoppiata controller metodo e in questo modo io ho automaticamente definito tutte le rotte per questo endpoint lo vediamo bene non si vede una mazza vediamo se posso zoomare un attimo indietro eccolo qua quindi questa è la lista di tutte le rotte abbiamo definito il nostro endpoint quindi get threads la lista di tutti i thread api threads post api threads mi permette di store quindi inserire un nuovo thread get prelevare il singolo put patch modificare il singolo delete eliminare il singolo d'accordo? è cambiato qualcosa nel codice che ho scritto? assolutamente no è tutto rimasto invariato bene andiamo a definire ora tutti gli altri metodi che ne dire c'è differenza tra resource e api resource no in realtà sono la stessa cosa cioè nel senso l'api resource è questo qui io lo chiamo eloquent api resource però sì sono le resource di Laravel stessa cosa store come funziona il metodo store? beh chiaramente come abbiamo visto tra l'altro possiamo invocare un mass assignment e anzi facciamo così creo il mio thread potrei fare questa roba qui quindi perché vi ho fatto questa roba due secondi per mostrarvi che volendo posso accedere ai valori presenti nella request in questo modo oppure possiamo fare fill request all possiamo anche fare una fill request only e ci passiamo solo i campi che vogliamo passare al model e quindi sempre un save oppure banalmente potremmo fare una create di tutto quello che c'è nella request ovviamente dobbiamo togliere new cose che ritorna l'endpoint store beh ritorna ovviamente una fed resource che è la resorso appena creata come dicevo prima poi c'è tutto un discorso di ti ringrazio pester allora vi dicevo quando si sviluppa un endpoint rest ci sono anche dei si dà anche un significato al valore di ritorno dell'endpoint quindi il valore di ritorno HTTP in particolare quando vado a creare un nuovo item non ritornerò uno status code 200 che mi indica che la request è andata a buon fine ma ritornerò uno status code 201 quindi andiamo a creare questo elemento eccolo qui post di un nuovo thread passando questo JSON che contiene title l'oggetto quindi con il titolo e il body in automatico l'Aravel mi ritorna un 201 quindi già gestisce lui la casistica dei valori di ritorno e qui c'è un problema ora io vorrei fare la domanda qual è il problema e so già che ci saranno due o tre persone mi risponderanno subito beh il problema è però siamo siamo troppo indifferita il problema qui è che se io dovesse ad esempio eliminare il body la request andrebbe di nuovo un errore perché la request va in errore perché adb queste colonne sono di tipo not nullable d'accordo? quindi non è possibile inserire un record solo con il title quindi dovremmo avere title e body e quindi da un certo punto di vista va bene ritorno un errore al frontend ti dico frontend mi hai passato una roba che non posso processare diciamo ad un certo punto di vista ma c'è un modo per per mettersi in mezzo e fare in modo che questa request venga validata prima di essere passata al database ovviamente sì come si fa potrei banalmente chiamare il metodo request validate avendo cura di passare le regole diciamo di validazione in particolare io mi aspetto che title sia required e magari che sia di tipo string e magari che sia niente tipo string va bene e body stessa cosa quindi required di tipo string ovviamente poi passerò a thread i dati dopo la validazione e quindi scusatemi tiriamo via di nuovo questa questa proprietà body dovrebbe ritornarmi un errore vediamo perché non me lo ritorna require string ragazzi non la sto vedendo dovrebbe nella store andarmi in errore invece mi fa un 302 fa application json va bene questo modo di lavorare va effettivamente bene nè perché stiamo di nuovo mettendo della logica nei controller che non dovrebbe essere qui come si fa beh si fa andando a creare una classe apposita che si chiama request e in particolare andiamo a fare php artisan make make request store request di nuovo questa fa parte degli end point tipo v1 d'accordo quindi diamo sempre il namespace questa non serve più ignoriamo per questo momento il metodo authorize passiamo all'interno del metodo rules le nostre regole quindi tiriamo via questa roba non prima di aver cambiato la tipologia del parametro in input tipo request bene quindi usando la thread store request è possibile esportare di spostare quella logica di validazione dei dati all'esterno del controller in una classe che può essere utilizzata quante volte vogliamo vediamo se ora funziona dovrebbe quanto meno andare in errore bene non vai in errore ho tralasciato qualche cosa sicuramente perché sto parlando scrivendo codice quindi probabilmente potrei potenzialmente fare delle cavolate nella post passo ctp localhost pv1 threads provo a mettere accept application json aspetta ma cazzarola vedi che c'è ragione my god oh mio dio quindi andava bene mauro ci hai salvati tutti ti devo una birra no mauro scusami francesco 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 era un problema del client sì 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 perché generalmente questo client ce l'ho già bello configurato e non ci vado mai a mettere l'accepto vabbè ragazzi scusatemi quindi tornando a noi possiamo anche fare un attimo un piccolo rollback ecco qui validate bene cosa ottengo con il metodo validate quindi siamo ritornati un attimo indietro poi questo pesettino lo taglio a me capita quando non utilizzo bene i fillable non so se è il caso no no va bene quindi sì abbiamo detto funziona che cos'è che fa questo metodo validate in completa autonomia mi permette di quindi senza dover far nulla di validare la request potesse ritornare un messaggio di errore specificando il codice 422 e al di là del messaggio di errore mi restituisce una lista di errori dove ogni key del dell'object specifica qual è l'errore specifico per quel campo quindi campo body the body is required bene quindi analogamente se noi tiriamo fuori questa questo funzionamento e usiamo la eh sì va bene ora qui ho fatto mezzo casotto va bene va bene torniamo rimettiamo tutto a posto ok quindi posso usare posso invocare direttamente il validator all'interno del metodo oppure usare una classe esterna che mi permette di definire le mie regole di validazione e in questo caso il tutto dovrebbe funzionare correttamente perfetto perfetto d'accordo torniamo a noi quindi abbiamo creato un nuovo record abbiamo visualizzato un nuovo record perfetto come si fa a fare l'aggiornamento dei dati bene io ora in questo caso riutilizzo la store request che abbiamo visto poco fa e poi andiamo invece a modificarla perché qui banalmente posso prelevare i dati validati all'interno della request sempre nello stesso medesimo modo posso aggiornare i dati presenti nei attributi del model tramite metodo fill passando i dati appena validati e ovviamente ritornerò che cosa sempre la nostra thread resource appena aggiornata come si fa ad aggiornare ovviamente bisogna prima di tutto salvare è possibile anche invocare il metodo update però io preferisco comunque sempre avere il model spesso e volentieri non uso neanche la create perché ho a che fare magari con model un pochino più complessi che hanno all'interno un pochino di dati che devono essere gestiti prima del salvataggio anche se ci sono poi vedremo comunque i mutators e tante altre cose carine va bene chiusa parentesi quindi in questo modo possiamo aggiornare il nostro la nostra resource qui c'è un pochino di roba body pensate di avere ancora in clipboard il body il mio contenuto come si fa a salvare quindi un dato a modificare un record andiamo a modificare il primo record con una put ad esempio perfetto e mi ritorna il record appena modificato con il mio contenuto il body variato vediamo se ci sono dei commenti niente perfetto sto andando molto lento ragazzi solo un overview del framework poi magari più in land abbiamo belli più spediti quindi vediamo un attimino siamo anche andati abbastanza fuori orario quindi fra un pochino chiudo ragazzi e poi ci rivediamo su discord e giocheremo un pochino con tutte queste cosette che abbiamo appena visto perfetto qui c'è un problema ora quando io vado effettivamente ad aggiornare un record database potrei piccola parentesi per chi conoscesse già diciamo il il rest l'Aravel non fa distinzione fra put and patch d'accordo quindi se io volessi modificare solo il titolo in questo caso otterrei un errore un processable entity perché perché the body field is required d'accordo ma in fase di update del del mio record il body field è già presente quindi perché non dovrei poter permettere di modificare solo il title senza dover ripassare il body beh effettivamente come si risolve questo problema andiamo a creare una store update request una thread update sto sbalestrando più di un'ora di live ragazzi si fanno i casini quindi le prossime saranno più brevi andiamo a modificare quindi nell'update la 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 request update request d'accordo funziona analogamente cos'è che cambia fra la store request l'update request semplicemente togliamo sempre il metodo authorize ragazzi ricordatevi o togliete authorize o ritornate true perché authorize serve per verificare se effettivamente l'utente ha il permesso di fare quella determinata request e se deve essere bloccata se voi non mettete true qualsiasi cosa passate la request fallirà sempre d'accordo perché l'utente non ha non ha non ha il permesso quindi con un 403 forbidden togliamolo via che cos'è che faccio qui clono le regole usate per la creazione della entity e tolgo il required in questo modo io potrò fare un aggiornamento del solo campo title per la entity facciamo un test andiamo nel db due secondi d'accordo prendiamo l'entity 2 title my title modifichiamo la entity con id 2 send se io ora rinfresco il mio db perfetto funzionato manca un'ultima cosa ovvero la delete come eliminare un una entity e poi banalmente invochiamo il metodo delete e cosa ritorniamo? abbiamo appena eliminato l'entità ha senso ritornare l'entità? no ritorniamo niente ritorniamo una response scusatemi no content perfetto quindi delete record 1 send 204 no content funziona a questo punto io mi fermerei qui abbiamo più o meno dato un overview di quello che è il framework di come funziona in questo modo ci saranno un pochino di altri video per mettersi alla pari chi magari non conosce il framework in questo modo può effettivamente iniziare a darci un'occhiata iniziare a smanettarci sopra e e poi successivamente andremo sempre ad arricchire le funzionalità presenti in questa applicazione intanto se avete dei commenti scrivetemi in chat se avete scelto il nome dell'applicazione ragazzi creo già i repository su github di italian coders altrimenti inventerò io un nome di mia fantasia intanto non so se c'è qualcosa poi in particolare che volete rivedere su quello che abbiamo appena fatto non vi preoccupate a chiedere le prossime magari stiamo sotto sotto l'ora diventa più facile per voi diventa pure più facile per me stare dietro alla alla live riuscire a commentare scrivere con il microfono che sta sotto le scatole non riesco neanche usare la tastiera andiamoci l'obiettivo su cosa dovrebbe fare potrebbe uscire un bel open source e sarebbe più facile trovare un nome giusto io vi avevo proposto due potenziali cose perché perché noi su italian coders abbiamo due esigenze vorremmo cambiare il sistema di gestione dei commenti e vorremmo anche avere potenzialmente una piattaforma dove proporre le iniziative proporre magari che ne so qualsiasi cosa che poi venga approvata dalla community stessa d'accordo quindi fare un pochino di democrazia liquida sarebbe carino sulla democrazia liquida ci sono dei software ma non so fino a che punto però per il tipo di software che andremo a sviluppare comunque anche un forum diciamo si potrebbe adattare quindi già esiste qualcosa sia da una parte che dall'altra possiamo comunque continuare questa discussione su su discord scusatemi in modo da capire che cosa vogliamo fargli fare a questo prodotto e ditemi anche che tecnologie volete integrare perché ad esempio se dovesse essere un sistema di gestione dei commenti perché non integrare ad esempio le web socket potrebbe essere interessante piuttosto che qualche time consuming task che ne so qualche esportazione qualcosina per vedere come lavorare con i job con le code e quant'altro quindi sbizzarritevi e magari direi di oggi chiuderla qui ci risentiamo su discord o nei commenti o dove vi pare cioè tanto mi trovate su tutti i social e ci trovate su tutti i social per decidere un attimino i web socket sembrano interessanti beh sì i web socket sarebbero interessanti vediamo un attimino dove vogliamo andare a parare l'obiettivo però qual è ragazzi? l'obiettivo è quello di sviluppare qualcosa di innanzitutto utile d'accordo? niente programmini che non hanno senso di esistere che in pratica tutte le live coding sono basate su programmini che non hanno senso di esistere ecco se noi andiamo avanti se riusciamo a sviluppare questo questo prodotto può uscire qualcosa di veramente carino quindi sbizzarritevi anche voi quindi qualcosa che sia utile funzionante e chi lo sa magari un domani verrà anche utilizzato da qualche community probabilmente se è qualcosa che può servire alla nostra community quella di Italian Coders perché no? potremmo decidere di integrarlo noi in prima battuta va bene ragazzi non mi sembra che ci siano altre domande questo codice comunque ve lo renderò disponibile su GitHub quanto prima penso stasera stessa devo solo scegliere il nome del repository e va bene dai ci vediamo alla prossima live ciao ragazzi grazie 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 grazie